Cerchiamo di approfondire la questione delle tasse perché, come avete sentito, il sindaco ha detto stiamo facendo qualcosa per i nostri concittadini. Con noi, come vedete, c'è Giovanni Iacolo, l'assessore al bilancio, ma anche ad altre cose, poi magari una puntatina la facciamo. Allora, assessore, che cosa sta facendo il comune di Ragusa, il sindaco ha detto abbiamo a cuore le sorti dei cittadini. Sì, abbiamo fatto una conferenza di stampa nella quale abbiamo voluto spiegare quale provvedimenti sono stati adottati nel corso del 2020 e quale stiamo anche adottando adesso nel corso del 2021. Chiaramente gli interventi sono stati articolati, non hanno riguardato un solo settore, in modo particolare stamattina abbiamo cercato di spiegare cosa è stato fatto in termini di servizi tributari, cosa è stato fatto in termini di sviluppo economico e cosa è stato fatto all'interno dei servizi sociali. Noi in maniera, devo dire, rapida, l'anno scorso il primo intervento fatto ha riguardato gli aiuti alimentari. Prima ancora del governo nazionale abbiamo stanziato delle somme, abbiamo fatto anche allora l'avvertura nel conto corrente stesso di donazione da parte delle persone per i primi aiuti alimentari con il Covid, quindi prima ancora che all'anno nazionale ci fossero questo tipo di interventi siamo riusciti ad attivare una macchina molto efficace, devo dire, deficiente, assieme anche alla Caritas e quelli sono stati i primi interventi di aiuti alimentari che poi hanno proseguito e si è proseguito anche ai servizi sociali con aiuti di ogni genere di necessità per le persone meno abbienti, che tra l'altro sono state oltre 2.300 le famiglie già in prima stanza, 2.300 considerate che sono oltre 7.000 persone, poi di fatto che sono il 10% della popolazione, quindi un dato anche rilevante, cioè si è emersa in maniera rapida, importante e significativa la povertà sotto molti aspetti e il disagio nella città. Abbiamo poi cominciato a fare qualcosa immediatamente, un primo piano di intervento per le imprese economiche con fondi del bilancio comunale, sono stati quasi 740.000 Euro con contributi a fondo perduto, dati a 575 aziende e imprese, questo se ne è curato la prima parte dello servizio sociale, inizialmente ce l'avamo anche noi come protezione civile, abbiamo poi eseguito come protezione civile, ma i servizi sociali con l'assessore Rabito, la parte dello sviluppo economico con il vice sindaco e l'assessore Licitra, che si è curata di questa parte delle imprese, quindi il primo intervento ha riguardato imprese che erano al di sotto fino a 10 dipendenti e fino a 2 milioni di fatturati, l'incirca è stato a fondo perduto un poco più di 1000 Euro per imprese. Oltre a tutto questo abbiamo fatto invece un'azione ulteriore, ma razionale devo dire organica per quanto riguarda il discorso dei tributi, i tributi nel corso del 2020, intanto devo dire che in questi 3 anni dati alla mano i tributi sono diminuiti gradatamente, mentre negli anni precedenti c'era stato un innalzamento dei tributi e questo è dato assolutamente oggettivo, quindi si è proseguito a prescindere dall'emergenza Covid, ma con l'emergenza Covid ulteriormente si è andata nella direzione soprattutto a delle imprese e delle attività economiche. Che cosa abbiamo fatto? Nel corso del 2020, alcuni numeri li abbiamo detto nel corso della conferenza Stam, nel quanto riguarda l'Atare la riduzione del 2020 per le imprese economiche, perché ci sono utenze domestiche e utenze non domestiche, per le utenze non domestiche intanto sono state nella misura di 2.365.853,91, riduzione dell'Atare, quindi significa minori entrate dell'Atare determinate da questa riduzione, per 2.365.853,91, qual è stata la misura? Intanto la riduzione del 50% della parte variabile per le imprese che hanno chiuso e anche per altre imprese che facevano la domanda all'istanza, ma di fatto sono state quasi tutte colpite, quasi tutte colpite e quindi è stato un aiuto. Questo si aggiunge chiaramente alla riduzione che già si era fatta, ma per tutte, quindi anche per le utenze domestiche del 5%. L'Atare anche per il 2021, questa è la novità che abbiamo anche detto in conferenza stampa, per il 2021 considerate che queste determinazioni per quanto riguarda i tributi, l'anno scorso sono state proposte e approvate dal Consiglio Comunale come una tantum, cioè nella delibera, nelle determinazioni che ci hanno messo che doveva essere per l'anno 2020. Quest'anno le abbiamo riproposte, quindi con fondi a carico del bilancio comunale, perché di alcune di queste misure sono arrivate dei fondi a livello nazionale, in parte minoritaria dalla regione e quindi vediamo quando sono arrivati da loro e quando in effetti poi è stato in bilancio comunale. Per cui anche per il 2021, ancora non c'è nulla rispetto ad aiuti o altro, abbiamo fatto in modo che, e questo è in corso di approvazione, tra l'altro l'ha, ma è stata già approvata dall'aggiunta, proposta dall'aggiunta, il 50% di riduzione dell'atare per le imprese, soprattutto le imprese che sono state più colpite, parliamo di ristorante, bar, pasticceria, agenzie di viaggi, sono tra le prime in questo senso, il 50% non più solo della parte variabile, ma è parte fissa e parte variabile, quindi il 50% dell'atare, questo nel 2021, e questo incide per 2.918.986,51, ecco, fra i 2.365.918 solo a carico, dal bilancio comunale abbiamo prelevato 2.210.839, quindi i ristori che sono arrivati sono riusciti a coprire una parte sola, quindi significa che sono riusciti a coprire poco meno di due terzi, perché poi per quanto è arrivata questa riduzione e a carico del bilancio del comune. Oltre questo però abbiamo fatto anche altre riduzioni che hanno riguardato l'Imo, non parlo nemmeno della Tosap, ma l'Imo, l'Imo è stata molto rilevante anche, l'Imo tutta una serie di aliquote che riguardano le categorie D, che è la categoria delle imprese, degli opifici, delle industrie, la categoria D l'abbiamo portata dal 9,6, che era abbastanza alta. Esatto, l'abbiamo portata al minimo 7,6, ma questo 7,6 è l'aliquota che prende lo Stato, cioè lo Stato non si è ridotto nulla della categoria D per le imprese economiche, noi abbiamo ridotto tutta la parte invece oltre il 7,6, quindi il comune non ha preso nulla nel 2020 e non prenderà nulla nel 2021 per quanto riguarda la categoria D del Limo, ma la stessa cosa l'abbiamo fatta anche per la categoria C, che sono i negozi, le botteghe, le botteghe artigianali, le magazzine, anche per questo tipo di categorie, la categoria C l'abbiamo ridotta al 7,6 e anche qui il comune. E quindi, diciamo, questo è per quanto riguarda le imprese economiche, ma la riduzione del Limo ha riguardato anche non le imprese, ma i cittadini normali, quindi ad esempio la categoria A, quindi altri immobili categoria A, compresa la categoria 7, che abbiamo introdotto in maniera strutturale, prima era separata e nella categoria 7 possono rientrare le seconde case, qua ce ne sono molti a Ragusa seconda case, anche l'anno scorso durante il lockdown tra l'altro non poteva manco andare nella seconda case, perché come ben ricordate era precluso anche il fatto di poter andare lì e quindi a maggior ragione si è cercato di venire incontro. Ora è chiaro che se questa l'idea era l'anno scorso, oltre a questo anche la 10 è stata ridotta, che sono gli studi professionali, le pertenenze con la C all'interno della C, ora chiaramente questa doveva essere una misura e delle misure, una tanto, ma invece le abbiamo portate anche per quanto riguarda il 2021 e questa incide in maniera rilevante, nel 2020 è stata questa riduzione 3.489.251, quindi significano meno entrate per il Comune per 3.489.000, quest'anno siccome l'abbiamo replicata allo stesso modo, sono altre 3.489.000 e di queste, considerando l'altra parte del ristoro dell'anno scorso, di fatto il Comune di Ragusa, ammesso dal bilancio comunale, sta mettendo 6.678.202 che si aggiungono a quelli che dicevo prima dei 2 milioni, quindi uno sforzo sicuramente enorme da parte del Comune, da parte del bilancio del Comune che abbiamo cercato di portare avanti, ma ripeto, oltre questo e anche le altre questioni di cui parlavamo prima per le imprese economiche e per i servizi sociali che hanno partecipato a molte bande. Però questo che ci preoccupa è questo, il Comune quindi li aveva questi 7-8 milioni, perché come si fa, ci si indebita o grazie a Dio avevamo il tesoretto? No, 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 grazie a Dio relativamente, nel senso che non ci sono più le entrate che c'erano prima, io servito ad alcune numere riuscite a capire qual è la situazione anche rispetto al passato e danno anche la misura della riduzione che si sono fatte nei tributi locali. Abbiamo fatto alcune azioni che riguardano un po' di razionalizzazione della spesa, che non è cosa di poco conto, abbiamo ad esempio fatto un po' di risparmio fiscale perché non ritenevamo che ci fosse una efficiente gestione dell'IVA e dell'IRAP e tutto questo ha portato ad un progetto che abbiamo portato avanti, di revisione. La gestione di chi? Da chi il Comune non sapeva gestirlo? Non ho capito. C'erano dei crediti erariali, riconosciuti e certificati per 998 mila Euro per l'anno 2020 e poco oltre un milione di Euro per il 2021, quindi già siamo riusciti a recuperare attraverso questa azione fatta dal Comune di gestione, ma stiamo facendo un lavoro molto importante alla ragioneria e considerare che i bilanci sono stati tutti approvati, io voglio ancora ricordare che in questo momento in Sicilia 328 comuni su 399 devono ancora approvare il rendiconto, mentre il Comune di Recusa ha approvato il rendiconto, bilancio preventivo nei tempi regolamentari e gli altri hanno ancora grossi problemi. Poi abbiamo avuto anche una riduzione per quanto era della spesa per il personale, perché per il personale sono andate in pensione alcune persone e questo, anche se ora abbiamo il piano assunzionale e stiamo man mano prendendo le persone attraverso la mobilità, però la fuoriuscita del personale, quindi 21 unità in meno hanno inciso anche in termini di risparmio, quindi abbiamo potuto recuperare qualche cosa, poi c'è stato un recupero dell'evasione per oltre 800 mila Euro. Questa è sempre una cosa buona. Dalla raccolta differenziata, questo ci ha consentito, stiamo attenti, sono quasi 18 milioni di Euro il PEF che è venuto fuori, quasi 18 milioni di Euro costa il servizio di igiene urbana e questo deve essere coperto al 100%, le riduzioni che stiamo applicando, tra l'altro anche grazie al PEF che abbiamo visto, saranno della misura, considerate che in questi tre anni è stato circa 15% con le riduzioni che saranno anche quest'anno che sono all'ordine del 7-8% per le attività domenze, complessivamente è già quasi il 15%, poco più anzi del 15% del risparmio sull'Atari in questi tre anni, ma questo è stato possibile grazie a un po' di incassi che sono avuti dalla raccolta differenziata e grazie al fatto che si è allargata la platea delle persone, delle persone che pagano, quindi c'è stata una maggiore, anche qui è fatto un buon lavoro l'ufficio Tribute, poi c'è stata anche un'altra parte, abbiamo visto di revisione delle procedure di spesa, quindi con un risparmio complessivo, abbiamo fatto un lavoro con tutti gli uffici per cercare di risparmiare alcune spese, quindi è stato quasi 450 mila Euro, quindi bene o male siamo riusciti a fare in modo che si fronteggiasse anche questa maggiore uscita da parte del Comune, considerate che i numeri che abbiamo sono numeri anche pesanti in termini di entrate, perché le entrate abbiamo avuto, se io prendo cinque anni fa, cinque anni fa le entrate erano 54 milioni del titolo 1, titolo 1 significa che le entrate proprie del Comune erano 54 milioni 673, nel 2020 sono state 42 milioni 753, meno 12 milioni, se il rapporto al 2018… Ci sono tutte le entrate proprie del Comune, poi c'è il titolo 2, sono le entrate invece che possono essere trasferimenti nazionali e regionali, io mi fermo, mi limito intanto all'entrata del titolo 1, sono già 12 milioni e meno nel giro di cinque anni, se mettiamo anche il titolo 3, erano nel 2016 32 milioni 524, nel 2020 20 milioni 390 e qui c'è la parte dell'idrico, sono circa 9 milioni per l'idrico e poi ci sono tutte le royalties che sono diminuite notevolmente, quindi complessivamente noi abbiamo 25 milioni di Euro in meno di entrate nel giro di cinque anni e se lo rapporto addirittura al 2018, dove le entrate del titolo 1 erano 57 milioni, la differenza è ancora maggiore, significa che solo delle entrate del titolo 1 abbiamo 15 milioni in meno e però malgrado questo si è riuscito a garantire servizi, si è riuscito a fronteggiare questa epidemia e soprattutto anche rispetto ad altri comuni, devo dire non solo della Sicilia ma sul territorio nazionale, siamo riusciti anche a garantire la chiusura dei bilanci in anticipo anche rispetto alla norma stessa. Questo vi fa veramente onore perché quando un comune non ha neanche gli occhi per piangere va male tutto, che non si riesce a fare niente, però a questo punto Assessore è importante questo, noi abbiamo aperto 12, 13, 14 milioni in meno, ma sarà così anche l'anno prossimo oppure se si ritornasse a vivere abbiamo di nuovo le entrate, ormai queste sono entrate che non si possono più muovere. Ma sui tributi locali non intendiamo assolutamente invertire la rotta di aumentare le imposte e le i tributi sono una leva secondo me importante per lo sviluppo, chiaramente il comune, quello che si prende serve per i servizi, quindi non è che serve per altro, però non riteniamo che bisogna andare nella direzione di riaumentare i tributi locali, ma di andare nella direzione di abbassarla, cominciare ad allatare, perché più avanza anche qui la raccolta differenziata, meno conferimenti ci sono e più si allarga la platea, siamo convinti che ancora ci sono sacche dove poter recuperare, siamo convinti che non si debba andare ad aumentare ma a diminuire, questo è l'impegno che ci siamo presi, ogni anno lo stiamo mantenendo e quindi io non penso che da lì nasca qualcosa, però è chiaro che se l'economia si riprende sarà un bene per tutti, ma sarà un bene per tutti. Assessore, questa grande progettazione che è stata comunque portata avanti dal Sindaco Cassì, perché io ho detto se al Sindaco vanno in porta un po' di cose, chiaramente lo facciamo il Sindaco per 25 anni, tutti questi investimenti, Palazzo Lumino, lo scalo, come sono, come li vede l'assessore al bilancio? Sono una pinna di fecato oppure tranquillamente si può… No, tranquillamente no, lo scalo di merce, chiaramente tutto costa, anche qui c'è stata un'inversione di tendenza, abbiamo cominciato ad acquisire, stiamo cercando di fare anche un'azione collaterale, dal mio punto di vista ci sto tentando, ma ancora non ci siamo riusciti, devo dire, per tutta una serie di ragioni, nel 2020 ci siamo fermati, che è quello della catalogazione, della classificazione del patrimonio immobiliare del comune che riguarda terreno e che riguarda case, chiaramente molte sono in condizioni fatiscenti, in condizioni non buone, però c'è qualcosa che si può recuperare, quindi noi dobbiamo fare presto un piano di alienazione di alcune bene del comune che possono essere utilizzate dalle persone ai costi che sono chiaramente i costi che stimeranno l'ufficio tecnico e io penso che questo partirà, spero presto, aspettiamo questi ragazzi del servizio civile, quest'anno abbiamo preso, il progetto per un altro anno sono di 60, ma quest'anno saranno ancora 50, dovevano essere al comune già un mese e mezzo fa, però il Ministero dell'Interno li ha prorogati, ora addirittura al primo luglio, però appena arriveranno, una parte di queste si occuperà proprio di fare questa classificazione, cioè dobbiamo fare una classificazione del patrimonio, metteremo una sorta di stellette, cioè quelle che sono alienabili, dove il comune può ricavare qualcosa, quelle in cui hanno invece bisogno di manutenzione, dobbiamo vedere meglio questa classificazione, considerate che abbiamo trovato molto patrimonio che non era manco accatastato, quindi è una situazione un po'. Beh c'è stato diciamo il periodo soprattutto di Ibla, quando si compravano le case e bastava che uno andava gliela portarsi, che sicuramente si sono dimenticati. Però c'è qualche casa Ibla, però qualcuno già ha chiesto di poterle prendere, anche se valgono poco da questo punto di vista, però mettiamo in moto anche le persone, perché chi le compra significa che lì farà qualche attività. Bene, andiamo a chiudere dunque l'assessore, un paio di cose, non voglio trascinare l'assessore nella polemica della quarta, quinta vasca, setta vasca, perché a questo punto mi secca, però la questione del verde, perché l'assessore è anche l'assessore del verde pubblico, la domanda che fanno alcuni, a chi tocca per esempio scelbare, ci sono alcune rotatorie che lasciate manco si vede, non guardo la strada perché in questo periodo l'erba è altissima. Questi lavori li fa Busso o li fa il Comune con mezzi suoi? Quando si va a sistemare la Villa di Ibla, che è un'altra polemica che spesso viene innescata, chi lo fa? Tocca Busso o tocca al Comune? Io la ringrazio, la ringrazio direttore perché intanto aiuta a chiarire le cose, intanto la rotatoria, le rotatorie abbiamo cercato, c'è un bando che è aperto di evidenza pubblica per fare in modo che ognuno si possa anche prendere una rotatoria, basta presentare un progettino descrittivo e quindi man mano li abbiamo cercato di dare, si fa pubblicità e c'è l'ultimo abbiamo visto in Viale delle Americhe, se le sono prese altre no, e quindi le rotatorie sono chiaramente, deve farlo il verde fino a quando è così il verde e quindi significa l'ufficio verde, invece tutto il resto, marciapiede, a me mi hanno attribuito troppo una serie di cose che io non ho, il verde si occupa del patrimonio arborio, il patrimonio arborio significa nelle ville, nei parchi, significa tutto quello che abbiamo fatto, i bambini nati che prima non si facevano, abbiamo fatto il regolamento, abbiamo fatto nel 2019, abbiamo piantato i primi alberi, nel 2018 il primo, già con la giornata dell'albero, 2018-2019 dobbiamo farlo per il 2020 e già abbiamo visto l'aria, la stiamo assegnando, quindi gli alberi, ci occupiamo di alberi, di aumento, di devalorizzazione del patrimonio arborio, sui marciapiedi l'erbetta che cresce, il verde non c'entra nulla, può avere il colore verde, ma è l'erbetta, è l'azione umida del servizio di igiene urbana e nel capitolato è scritto in maniera chiara che lo spazzamento deve essere fatto da muro a muro, da muro a muro e il marciapiede rientra tra muro a muro e questo l'ha ditta il servizio di igiene urbana, lo sa, e stanno lavorando con grande fatica, lo stanno facendo, ma è chiaro, partiamo da un presupposto che purtroppo abbiamo 443 km2 di territorio comunale, l'undiceso viene da un'altra persona, ma non è sufficiente, ma stiamo facendo altre cose, ora stiamo cercando ulteriormente di ampliare, anche lì senza spendere tante cose, con risparmio di spese utilizzando altri escamotaggi, nei prossimi giorni daremo anche altre novità in questo senso, però è chiaro che diventa facile, su 443 km2 è normale che posso vedere degli angoli, delle altre cose dove ci sarà il vero, il problema è sulla villa, la villa è tenuta, tra l'altro la villa erano senza alcuna custodia, da due mesi abbiamo la custodia nelle ville con tanto di scritta col comune di Ragusa, sono presidiate dalle persone, c'è il custode che ogni giorno va a guardare, ci sono state una serie di situazioni anche nelle ville, le impianti di irrigazione che in passato non funzionavano, abbiamo ripristinato la vasca che perdeva da non so quante decenne acqua, che è risorsa assolutamente preziosa. Questo senza dubbio, però lei ha ragione, se sulla strada per andare, che ne posso dire, a Sagnapeco dove c'è il vostro consigliere che è sempre molto attento, c'è l'erba, vabbè, ma magari Silviale con la Ianni… Ma anche qui direttore, sulla strada per San Giacomo o da altre parti, abbiamo fatto un'altra cosa nuova, da un anno abbiamo fatto una convenzione con gli agricoltori e gli agricoltori se ne stanno prendendo cura, il comune sta pagando, sono oltre 100 mila Euro che vengono date per poter ripulire chi si prende in cura l'agricoltore stesso e l'agricoltore tra l'altro ha un'integrazione al proprio reddito e ci dà la possibilità di essere più accorrentati, sono forze che abbiamo fatti, è enorme, però lo stiamo facendo. Quello che ci dicono noi vi diciamo. Abbiamo parlato tanto, grazie Assessore al bilancio, al verde pubblico Giovanni Iacolo. Andiamo avanti con il giornale, grazie. Grazie. Grazie.